Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 4 novembre Notte Horror 5 novembre Cortometraggi 6 novembre Videoclip, animazione e documentari Dal 4 al 6 novembre Voghera Film Festival 2016, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Inizio proiezioni, ore 21. La campagna elettorale che ha voluto impostare il mio avversario, che è una campagna elettorale basata su questioni personali, basata su attacchi personali, basata su insulti, e quindi poi costringe sempre la replica. La campagna elettorale rischia di spostarsi su una situazione che sicuramente non è né quella che io ho intenzione di impostare. La campagna elettorale credo che come sempre deve essere impostata su delle proposte sul governo della città. Poi saranno i cittadini a scegliere eventualmente le proposte che riterranno migliori o le persone che riterranno più affidabili. È con queste parole che Carlo Barbieri apre la conferenza stampa convocata questa mattina nel suo ufficio di Via San Lorenzo per replicare le accuse lanciate dal Partito Democratico negli ultimi giorni. Il mio avversario politico, sottolinea con forza il candidato di Forza Italia, è come Pinocchio. Ribalta le responsabilità su altri, ma se Ghezzi dovesse vincere il ballottaggio, la prima cosa che farà sarà vendere a SM vendite e servizi, perché vuole comprarla. Linea più della quale il mio avversario e direttore generale nei mesi scorsi ha fatto un'offerta per acquistare l'azienda vogherese ed io, su indirizzo del Consiglio Comunale, sono andato verso un'altra direzione, perché non prevedo la possibilità per ASM di essere venduta. Non solo ci siamo posti alla vendita, ma abbiamo anche proposto l'acquisto di ASM Tortona. Quelle di Ghezzi sono chiacchiere da bar. In quanto allo stupore suscitato per l'arrivo delle guardie giurate in stazione, Barbieri assicura la mia reale preoccupazione è difendere i cittadini. Sono andato io in Regione per chiedere un intervento sulla nostra città. Voglio sicurezza nei giardini di Piazzale Marconi. Il progetto della mia coalizione, Difendi Voghera, che in parte sta portando avanti il commissario Pomponio in maniera eccellente, deve essere ancora completato. La tutela della città coinvolge anche gli anziani. La sanità, Regione Lombardia, investirà a breve per un nuovo DEA nell'ospedale cittadino. Barbieri sottolinea il fortissimo rapporto tra il centro-destra e l'azienda ospedaliera e di lavoro per i giovani. In quanto ai ritardi sulla risoluzione del caso elezioni dello scorso anno, da sempre ritenuti da Ghezzi una conseguenza dei continui ricorsi di Barbieri, il sindaco attualmente sospeso assicura Lo stesso mio concorrente doveva pretendere che fosse eseguita la sentenza del TAR, che era immediatamente esecutiva, ma non l'ha fatto. Il 23 luglio, con la sentenza del Consiglio di Stato, doveva notificare la sentenza per guadagnare tre mesi, ma non ha agito. Sono dati realistici, è lui che continua a ritardare, le sue sono polemiche d'asilo. Le sue bugie si possono smentire in pochi minuti. Barbieri si dice dispiaciuto perché il suo avversario prende in giro i cittadini e loro non lo meritano. Noi preferiamo portare a casa i progetti, come quello di far atterrare l'elisoccorso anche di notte all'interno dello Stadio Parisi, inaugurare nuovi lavori su una parte dell'ospedale, rendere più efficienti e puliti fognature e tombini per evitare allagamenti e pulire il torrente Staffora, cosa che è stata fatta anche quest'anno su mia richiesta, pur non essendo sindaco in carica. Il loro stare in mezzo alla gente è una finta. Noi siamo quotidianamente a contatto con i cittadini e conosciamo molto bene i loro reali problemi.